. Ciao Dona! Oh ciao Dona! Senti mi devo fare un favore! Dimmi! Mi devi portare i soldi! Ma fra 5 minuti vado e rivengo. Dai vabbò. Senti Tony, dove è andato? Non lo so. Come vai così in ritardo affatto? Non lo so anche io. Ma vediamo dove è andato, dove c'è. Sta facendo 5 minuti di ritardo. E' vero. Questo qua. Questa. E' un po' di segno. Si è. Ok. Questa è un po' di segno. Cos'hai dietro le spalle? Niente. Cos'hai dietro le spalle? Niente. Picciotto. E cos'è questa? Un disegno. Questa è questa merda. No! Potrei ucciderti, ma non voglio. Subito vattene da Roma. Vattene, no? Stato, lo uccitiamo. No, ora vediamo dove va. Vattene, no. Pasqua! Dimmi, capo. Devi trovare questa ragazza, capito? Va bene, capo, l'ho portata a te. Si, adesso mi devo portare. Va bene. Capito? Si. Hai trovato dove erano, va? Si, capo. Dai, andiamo qua. Lui era un bravo. Un braccio destro dove, come era. Il mio braccio destro. Un braccio destro è risato. Circ 46. Unтересo. Il governo Molare, es productive, Il potente viene nicely, che ed è costato dalla merita di called 9manese, Minas Max. Ma questa ragazza come si chiama? Ma cosa lavora questa ragazza? Dove lavora? Ce la saprei, cosa la farei? Questa ragazza abbiamo fatto un macello. E' una sorpresa a vederti, mi potresti prestare il telefono. In serio ci sono problemi. Ti prego scrivi il contano dei presi. Ciao! E' un bambino. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.